Buongiorno ovviamente a tutti, io do il benvenuto qui nella nostra regione a Federica Romiti che è assessore al turismo del comune di Fossombrone e a Maria Silvia Nocelli che è appunto consigliera incaricata di seguire la cultura nel comune di Fossombrone. Oggi siamo qui per presentare questa rassegna, una rassegna che si chiama appunto Parole, una rassegna che ha trovato il sostegno da parte dei nostri bandi della cultura, l'edizione ovviamente 2023 che vedrà in maniera particolare il comune di Fossombrone protagonista per diverso tempo dal 19 ottobre al 23 marzo, quindi un periodo anche abbastanza lungo e un periodo che sarà caratterizzato da una serie di iniziative che poi ovviamente chi è qui accanto a me entrerà magari più nel dettaglio raccontandole più specificatamente, comunque una serie appunto di iniziative che avranno come filo conduttore la parola, le parole e che quindi saranno una serie appunto di incontri, convegni, incontri ovviamente con gli autori, aperitivi letterari insomma. E per noi come diciamo Regione Marche siamo particolarmente orgogliosi e siamo a fianco di tutte queste amministrazioni che credono fortemente nella cultura. In questo caso quindi la cultura che ha non solo diciamo un valore appunto sociale ma ha sicuramente anche un valore economico, un valore di sviluppo, di conoscenza e di approfondimento di un territorio e in questo caso quindi cultura e turismo rappresentano due elementi fondamentali proprio e soprattutto in questa rassegna. Tra l'altro Fossombrone è un comune al quale sono anche legata perché è stato il primo comune dove sono stata quando abbiamo presentato i nostri direttori di rete quindi perché appunto il comune di Fossombrone ha già dato prova di credere fortemente nell'importanza della cultura perché appunto ha aderito ad una rete che abbiamo appunto costituito come Regione Marche. Quindi sicuramente appunto in questo caso la parola nelle sue varie sfaccettature quindi scritta, parlata, musicata quindi sotto veramente tantissimi punti di vista e tantissimi aspetti. E come dicevo insomma a me fa particolarmente piacere e sono a fianco di tutte queste amministrazioni che credono e danno il coraggio di investire nella forza proprio che la cultura riveste nei vari territori. Quindi iniziative sicuramente come queste poi credo che ci insegnino a capire cosa c'è dietro il significato delle parole perché molto spesso noi leggiamo anche in maniera frettolosa senza soffermarci a capire quello che c'è magari il significato più profondo che a volte troviamo appunto dietro a qualsiasi genere appunto di parola. E quindi credo che l'originalità proprio di questa rassegna sia in questa direzione. Quindi io ovviamente mi fermo qui, lascio la parola all'assessore al turismo del comune di Fossombrone Federica Romiti. Grazie. Grazie assessore, grazie a tutti i presenti. Ci tengo subito a dire che Parole è una rassegna che ormai è arrivata alla seconda edizione ed è un grande lavoro di collaborazione tra settori cultura e turismo del nostro comune di Fossombrone perché noi come amministrazione da subito sia io che la consigliera Nocelli abbiamo instaurato un rapporto e un modo di collaborare nel quale turismo e cultura abbiamo deciso di farli sposare immediatamente perché per noi Parole è una rassegna che poi la consigliera Nocelli andrà nel dettaglio a sviscerare. È una di quelle rassegne che deve portare turismo ma turismo culturale. La parola deve essere, come proprio dice anche il nostro logo di parole, cultura, vita, curiosità. Tramite la parola noi vogliamo incuriosire chi viene, far capire, far conoscere quello che è anche la nostra storia, le nostre origini perché è molto importante anche per noi capirle e quindi i primi a cui ci rivolgiamo sono i nostri concittadini post-sempronesi. Ma speriamo sempre di più di attrarre, grazie a questa rassegna che ha ogni anno e soprattutto quest'anno un'impronta più innovativa, di attrarre più persone possibili a Fossombrone e riuscire a farla conoscere e a far capire quanto è importante e quanto di bello abbiamo. E in questo ci tengo subito a ringraziare la consigliera Nocelli per lavorare con me strettamente ogni giorno e cercare di portare a casa sempre il miglior obiettivo. Quindi passo la parola alla consigliera Nocelli che spiegherà in dettaglio la rassegna. Grazie ancora a tutti. Ringrazio l'assessore Biondi, ringrazio l'assessore Romiti e mi accingo a parlare un pochettino del contenuto di questa rassegna ma soprattutto l'obiettivo che ci siamo prefissati nell'organizzazione. Allora la parola come è stato già ampiamente detto oggi è un po' vilipesa, è un po' calpestata, è come ho scritto nell'introduzione una parola ovvia, obviam, e proprio per questo non considerata nella maniera adeguata. Per questa ragione noi chiediamo appunto attraverso la presentazione di libri ma anche di libri di poesia, attraverso il dialogo, attraverso la conversazione e l'interazione che ci auguriamo questa rassegna possa così instaurare ecco si possa portare avanti un dialogo costruttivo e soprattutto di riflessione sul vero significato che le parole veicolano. Quindi riportare la parola anche al suo etimo è importante capire da dove proviene la parola e che cosa vuol significare appieno. Oltre questo il fatto che la rassegna parole sin dallo scorso anno si è caratterizzata per una attenzione importante alla realtà locale come diceva l'assessore Romiti, cioè noi abbiamo invitato scrittori del territorio e personalità del nostro territorio anche forse impronesi che attraverso la parola, la parola intesa come dialogo, la parola intesa come cura ai malati, la parola intesa come parola giornalistica e faccio riferimento a tre personalità che parleranno e racconteranno della loro peculiare e anche originale unica esperienza, ecco come la parola può cambiare per piccoli passi anche la realtà. Quindi non solo presentazioni di libri, libri che sono sia in prosa, quindi romanzi e libri di poesia, di autori del territorio, quindi abbiamo coinvolto anche molti professori dell'Università di Urbino e quindi stretta è la sinergia tra il nostro comune e l'Università e gli studi di Urbino, ma anche ecco forse impronesi che come dicevo hanno operato in vari ambiti. Accanto a questo una giornata, e questa è l'originalità e la novità di quest'anno, dedicata alla poesia e lì poeti marchigiani ma anche poeti forse impronesi in erba che hanno per anni scritto le loro poesie e messe nel cassetto avranno la possibilità di declamarle, di leggerle davanti a tutti. Quindi un'intera giornata in cui Fossombrone diventerà la città della poesia. Ecco, il lasso di tempo è ampio dal 19 di ottobre al 23 di marzo. Noi speriamo e ci auguriamo, abbiamo lavorato appunto in tal direzione che questa nostra idea di cultura e di comunicazione, di dialogo attraverso la parola arrivi a un pubblico sempre più ampio. Grazie. Bene, grazie ovviamente a chi è intervenuto. Tra l'altro insomma dal programma che ho potuto vedere, l'aspetto forse anche più significativo è un po' anche una scoperta dei vari monumenti, dei vari luoghi appunto del territorio di Fossombrone. Quindi questo penso che sia anche un ulteriore diciamo valore aggiunto perché come giustamente ricordava anche prima l'assessore Romiti, cultura e turismo perché è anche un modo per riportare appunto le persone all'interno di luoghi di cui sicuramente insomma il territorio di Fossombrone è anche particolarmente ricco. Quindi io non so se ci sono domande per chi è collegato o per chi è in presenza. Perfetto, allora benissimo, chiudiamo qua questa conferenza stampa con l'appuntamento quindi al 19 ottobre a Fossombrone alle ore 18 appunto con il primo appuntamento di questa rassegna. Grazie. 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 Grazie.